In Austria il signor Erwin Deutscher. Un attimo di... Un piccolo inconveniente tecnico capita anche nelle migliori famiglie. Ok, dovevo essere l'innaustriaco, si è sentito poco, facciamo un applauso all'innaustriaco. Allora, proseguo con la presentazione della giuria dal Lussemburgo, il signor Laurent Eines. Esce. Allora, gli indi purtroppo oggi non si sentono benissimo. Allora. Allora. Grazie. È una presentazione un po' movimentata oggi purtroppo. Ok, proseguiamo con la presentazione di tre giudici che vengono dall'Ungheria. il signor Jacquel Tamas, il signor Koros Andras e la signora Judith Pap Koros. Grazie. Ok. Allora, dalla Repubblica Ceca il signor Leos Jancic. Grazie. 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 Allora, proseguiamo con un giudice che viene dalla Finlandia, Jussi Limatainen. Grazie a tutti. Slovenia, la signora Alenca Pokorn. E concludiamo per quanto riguarda i nostri ospiti stanieri con il signor Jovica Golubovic dalla Serbia. Grazie. Presentiamo adesso i nostri giudici italiani, quindi la signora Anna Albrigo, il signor Buratti Pierluigi, la signora Maria Ceccarelli, il signor Domenico Di Matteo, il signor Cucillato Alberto, la signora Gabriele Mondo Maria Teresa, il signor Parmigiano Vincenzo, la signora Poggesi Manola. Grazie. Grazie. Sono con noi anche i due delegati dell'ENCI, il signor Dario Posillipo e la signora Cinzia Mosca, il presidente del gruppo cinofilo di Rimini, Pier II Zacco, al quale tributerei un applauso maggiore perché il Romagna Winner è un po' opera sua. Grazie. Ok, adesso prima di andare nei ringhi ascoltiamo l'inno del Romagna Winner, ok? Ok. Grazie. E' carino. E' carino. E' carino. No. Ok. Grazie. Non è molto originale, però è la canzone della Romagna. I signori commissari possono accompagnare i rispettivi giudici nel ring. Grazie.